In questo tutorial vediamo degli esempi di scomposizioni di polinomi attraverso la differenza di quadrati. Partiamo da questo primo esempio. Come prima cosa dobbiamo riconoscere i due quadrati, a alla seconda e b alla seconda. In questo caso il primo quadrato risulta essere a alla seconda. Il secondo quadrato risulta essere a più b alla seconda. Vado ora a determinare le due basi. La radice quadrata di a risulta essere a e la radice quadrata di a più b alla seconda risulta essere a più b. Ora che abbiamo determinato le due basi, applichiamo questa formula e vado a scrivere la prima base che risulta essere a, poi meno b, ossia la seconda base. Qui la seconda base è composta da due termini e devo stare attento a cambiare il segno a tutte e due termini e scrivo meno a meno b. Poi per, apro la tonda, ricopio la prima base che risulta essere a più e ricopio la seconda base che risulta essere a più b e chiudo la tonda. Ora semplifico a con meno a, quello che resta qui all'interno è meno b, per, in questo fattore sommo a con a e allora apro la tonda e scrivo 2a più b e chiudo la tonda. Scomponiamo questo polinomio per differenza di quadrati. Come prima cosa devo riconoscere i due quadrati. Il primo quadrato è x alla sesta, il secondo quadrato risulta essere 4 che moltiplica x alla terza più 2 alla seconda. Vado a determinare la base di x alla sesta. Devo estrarre la radice quadrata di questo termine. Per far questo sarà sufficiente dividere per 2 l'esponente e otteniamo x alla terza. Vado ora a determinare la seconda base. La radice quadrata di 4 risulta essere 2 e la radice quadrata di x alla terza più 2 alla seconda è x alla terza più 2. Ora che ho determinato le due basi applico questa formula e vado a scrivere la prima base che risulta essere x alla terza meno la seconda base e quindi scrivo 2, apro tonda, x alla terza più 2, chiudo tonda e chiudo tonda. Poi per, apro la tonda, x alla terza più 2 che moltiplica x alla terza più 2, chiudo tonda e chiudo tonda. Ora eseguo questa moltiplicazione e questa moltiplicazione. Uguale x alla terza meno 2x alla terza meno 4 per, apro la tonda, x alla terza più 2x alla terza più 4 e chiudo tonda. Ora vado a sommare i termini simili. x alla terza meno 2x alla terza ottengo meno x alla terza e poi ricopio meno 4 per, apro la tonda, x alla terza più 2x alla terza ottengo 3x alla terza più 4 e chiudo la tonda. Passiamo a questo terzo esempio e scomponiamo questo polinomio per differenza di quadrati. Il primo quadrato risulta essere b alla sesta, il secondo quadrato risulta essere 9 che moltiplica c meno 2 alla seconda. Vado a determinare la base di b alla sesta e allora ne devo estrarre la radice quadrata. Sarà sufficiente dividere per 2 l'esponente 6 ed ottengo b alla terza. Per quanto riguarda la seconda base, la radice quadrata di 9 è 3 e la radice quadrata di c meno 2 alla seconda risulta essere c meno 2. Ora che abbiamo determinato le due basi, applichiamo questa formula e vado a scrivere b alla terza meno 3 che moltiplica c meno 2 per b alla terza più 3 che moltiplica c meno 2. Chiudo tonda e chiudo tonda. Eseguo ora questa moltiplicazione e questa moltiplicazione ed ottengo b alla terza meno 3c più 6 per b alla terza più 3c meno 6. E chiudo la tonda. Passiamo a questo quarto esempio e scomponiamo questo polinomio. Il primo quadrato risulta essere x più 2y alla seconda, il secondo quadrato risulta essere 16y alla seconda. Vado a determinare la base del primo termine. La radice quadrata risulta essere pari a x più 2y. Vado ora a determinare la base del secondo termine. La radice di 16 è 4 e la radice di y alla seconda risulta essere y. Ora che abbiamo determinato le due basi, applico questa formula ed ottengo a, ossia la prima base, e quindi scrivo x più 2y meno b e quindi devo scrivere l'opposto di 4y meno 4y per, apro la tonda, a, ossia x più 2y più b, ossia più 4y. Ora vado a sommare i termini simili, ossia 2y meno 4y e 2y più 4y ed ottengo x meno 2y che moltiplica x più 6y. Vediamo quest'ultimo esempio e scomponiamo questo polinomio. Il primo quadrato risulta essere a più 3b alla seconda, il secondo quadrato risulta essere 25b alla seconda. La base di a più 3b alla seconda è pari ad a più 3b, mentre la base di 25b alla seconda risulta essere 5b. Ora che abbiamo determinato le basi, applico questa formula e vado a scrivere la prima base, ossia a più 3b meno la seconda base, ossia scrivo meno 5b. Poi per, apro la tonda, la prima base a più 3b più la seconda base più 5b e chiudo la tonda. Vado ora a sommare i termini simili. Ricopio a, 3b meno 5b è pari a meno 2b. Chiudo la tonda. Per a più 3b più 5b ottengo 8b e chiudo la tonda. E con questo termino il tutorial su esempi di scomposizioni di polinomi attraverso la differenza di quadrati.